Si sono dati appuntamento in aperta campagna tra le contrade di Piano del Signore e Bulala in prossimità del mare. Loro sono i volontari del reparto di ricognizione territoriale. Questa mattina hanno ripulito la zona di rifiuti di ogni genere. La sezione nautica dell'ecosezione Frigia di Catania, dove avuto il convinto via libera da parte della Giunta, sta operando in forma gratuita e volontaristica con i propri escavatori. È una zona eccezionale, molto bella, è una zona anche piena di storia e quindi lasciata un po' così abbandonata non era una cosa molto dignitosa sia per noi come associazione ambientalista e neppure con il grande aiuto dell'amministrazione comunale che ci sta sopportando. Il Comune di Gela sta collaborando mettendo a disposizione due casse scarrabili, anche per gran parte di questi rifiuti sarà praticata scrupolosamente la raccolta differenziata. Molte persone che vengono perché proprio ci credono a vivere in un mondo più pulito e decoroso. È sicuramente molto più difficile pulire che riuscire che invece sporcare. Quindi il mio appello va a tutte quelle persone che hanno considerato quest'area non un'area pregiata dove tutti possono venire, ma una specie di angolo dove nascondere i rifiuti, un tappeto dove mettere i rifiuti sotto e che nessuno magari se ne poteva accorgere. Quindi il mio appello è quello di essere primi noi, adesso gelesi, ad essere vigili che questa zona, come anche le altre zone del territorio gelese, possono rimanere. Chi ama la propria terra non può permettere di sporcarla. Sicuramente chi fa questi atti non ha né la sensibilità, né il cuore, devo dire che non è nemmeno si può chiamare degno di essere un cittadino gelese, un cittadino del mondo. Qua oggi sono venute molte persone che non sono nemmeno di Gela. Persone che sono anche fuori dalla Sicilia, che sono venuti perché credono che il mondo, vivere in un mondo più pulito è sicuramente molto più dignitoso e molto più decoroso. Quindi grande lavoro per la pulizia, ma credo che adesso tocca a tutti noi riuscire a mantenere questo luogo come deve essere, ovvero sia pulito. Entusiasti dell'opera di pulizia avviata, anche gli imprenditori agricoli e le quezienti ricadono nella zona.